Saluto e ringrazio per la sua presenza il signor Sers Sarsian, Presidente della Repubblica di Armenia. Saluto cordialmente anche i miei fratelli patriarchi e vescovi, Sua Santità, Carichin II, Supremo Patriarca e Cattolico di tutti gli Armeni, Sua Santità, Aram I, Cattolico della Grande Casa di Cilicia. Un sentito saluto ai fedeli armeni. Che sono venuti a Roma e hanno partecipato alla Santa Messa con la presenza dei miei fratelli, i tre patriarchi e numerosi vescovi. Grazie. 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 Grazie.